Tra qualche settimana, spero, il mondo telefonerà agli umani. Più o meno penso che il dialogo sarà questo. Mondo. Ciao, ci sei ancora? Bel casino, eh? Umano. Ciao, sì, ci sono ancora. Un gran bel casino. E hai avuto paura? Moltissima. Una paura fottuta. E tutta questa storia cosa ti ha lasciato? Un gran senso di angoscia, di incertezza, di impotenza. Si sta male da persone non libere, vero? Malissimo. Però oggi voglio darti una bella notizia. Puoi tornare a mettere il naso fuori. Puoi tornare a piccole dosi a riprenderti la tua vita. Prima, però, ti devo fare una serie di domande. Diciamo che è una specie di test. Solo se lo passerai, ti darò il permesso di uscire. Vai, 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 ti prego. Hai notato che sono andato avanti lo stesso? Che non me ne sono andato? Sì. Hai notato che è arrivata la primavera, che si sono allungate le giornate, che sono spuntati fiori sugli alberi, che il sole è diventato un po' più caldo? Sì. Ho anche iniziato a starnutire, ma non per il covid, è la solita allergia. Hai notato quel cucciolo di daino che faceva il bagno in mare? Sì. Hai notato quel cinghiale che andava in giro indisturbato con i suoi piccoli? Sì. Hai notato che l'aria è pulita, che si riesce a respirare meglio? Sì. Hai notato che è sceso l'inquinamento? Sì. Hai notato quante brutture in meno ci sono state? Sì. Bravo. Hai persino imparato a fare la raccolta differenziata? Hai frazionato di tutto e di più. Almeno avevi la scusa di uscire più volte per buttare la spazzatura? È vero. Hai imparato che lo dovrei fare sempre? Sì. Hai imparato che non devi sprecare le risorse? Sì. Hai capito quanto è importante il cibo, se mai ti è venuto a mancare? Sì. Hai imparato che non lo devi buttare via? Sì. Imparerai a non incazzarti per ogni minchiata? Sì. Imparerai a dare l'ordine giusto alle cose? Sì. Imparerai ad apprezzare un prato verde? Una spiaggia senza rifiuti? Un mare senza plastica? Una montagna senza schifezze che lasci in giro? Sì. Imparerai a non maledire ogni allerta rossa perché i bambini rimarranno a casa per un solo giorno? Sì. Imparerai a portarmi più rispetto? Sì. A capire che non comandi tu? Sì. A capire che sei una creatura intelligente e devi lavorare con me, insieme a me e non contro di me? Sì. Ma senti un po'. Mi dici sempre sì perché hai capito o perché vuoi prendermi in giro? Guarda che ti controllerò, sai? Mondo, posso chiederti una cosa? Dimmi, umano. Non è che facciamo pace? Vedi, umano, alla fine ti ho chiamato proprio per quello. Hai superato il test. Volevo sentirmelo dire. Volevo che mi chiedessi di fare pace, non volevo null'altro. Davvero? Sì. E ti dico che facciamo pace subito, adesso. Vai, esci pure di casa e ricordati di quello che ci siamo detti. Va bene, mondo. Ti voglio bene, mondo. Grazie. Te ne voglio anch'io, umano. Ti voglio un bene grande. Beh, è chiaro. Grande quanto me. Facciamola, questa pace con il mondo. Un passo indietro nostro, due passi avanti per lui. Non male come accordo, vero? Grazie. Grazie a tutti.